Il silenzio come regola tra questi palazzi dove le indagini vanno avanti. In questa palestra abbandonata tutto veniva filmato. I video usati per ricattare le vittime, per farle stare zitte. La logica dei boss tra i 15 ragazzi coinvolti nell'inchiesta ci sarebbero anche i figli dei ras della droga di Parco Verde. Una periferia degradata, Don Patriciello chiama accanto a lui Paolo. Ricorda l'incontro di questo bambino con il presidente Mattarella e il suo racconto. Parco Verde Italia. Io da casa mia per arrivare a scuola ogni mattina devo superare 5 piazze di spaccio. La pressione sulle piazze di spaccio è costante, ribadisce il ministro dell'interno Piantedosi in visita in Campania. Sono fatti che riguardano sicuramente i temi della sicurezza e della prevenzione ma sono temi anche di carattere culturale che quindi coinvolgeranno e devono coinvolgere l'educazione dei ragazzi e quindi anche il mondo della scuola e quant'altro.